Ci troviamo nel borgo antico di Taranto, nella città vecchia, uno splendido scenario, però purtroppo la faticenza degli immobili e l'assoluto stato di decozione, la mancanza di messa in sicurezza, purtroppo delineano un quadro davvero deprimente e pericolosissimo. Vedete qui infatti questo vicolo che congiunge via Cariati con via Garibaldi era stato chiuso proprio perché era inagibile, vedete vi sono delle impalcature, è tutto pericolante e quindi era stata messa in sicurezza l'aria attraverso questa struttura in ferro, questa porta, chiamiamola così, che doveva chiudere il vicolo, renderlo inaccessibile e quindi garantire la sicurezza, proprio onde evitare che davvero qualcuno potesse rimanerci sotto, perché è una zona pericolante, piovono pietre e calcinacci e quant'altro, ma da mesi questa porta misteriosamente è aperta e ora la messa in sicurezza non esiste più, perché come vedete si può tranquillamente entrare nel vicolo che è ridotto in condizioni a dir poco pietose, oltre ad esserci sporcizia c'è materiale di risulta, ma tutto questo vicolo appunto, essendo stato dichiarato pericolante, proprio per questo era stato impedito l'accesso, infatti vedete qui la zona è murata e per entrare vi era appunto la porta, porta che è stata aperta e ora si può entrare in questo vicolo con tutti i rischi che entrare comporta, perché lo vedete voi stessi, ci sono le impalcature e poi piove di tutto, piovono calcinacci, come ho detto prima, magari fossero calcinacci, piovono pezzi dell'immobile, pietre e quant'altro, vedete questo appunto il vicolo che congiunge via Cariati a via Garibaldi, uno stato di decozione assoluta, situazioni che poi di abbandono che si stratificano da decenni, decenni e decenni, condizioni igieniche sotto zero, non zero, guardate qui che immagini, la telecamera non riesce a riprodurre il cattivo odore, la puzza che emana da questa zona, ritorniamo alla luce, diciamo così, ci è andata bene, perché magari più di qualcosa poteva pioverci in testa, ma mi piacerebbe sapere cosa è successo, perché questa porta è stata aperta, quando invece doveva essere chiusa, e sta aperta da parecchio, da mesi e mesi, provano il fatto che tranquillamente è cresciuta l'erba e ci sono delle pietre che praticamente hanno, come dire, fossilizzato qui la porta e la porta non può, non può appunto richiudersi. E allora l'appello all'amministrazione comunale e innanzitutto ai vigili urbani affinché intervengano prontamente, rapidamente, perché vedete, qui può accadere davvero l'irreparabile, un bambino nella sua incoscienza o anche magari un adulto può così passeggiare e il bambino per pura curiosità entra, entra e oltre ad imbattersi in un quadro, ripeto, di condizioni igieniche pietose, ma può lasciarci davvero la pelle perché può cadere di tutto. Ecco, e allora noi abbiamo fatto questa segnalazione perché riteniamo che l'informazione debba anche avere una sua funzione di utilità sociale, ora voglio vedere quanto tempo occorrerà per mettere in sicurezza questa zona. Già era stato fatto, era stato, lo ripeto, per maggiore chiarezza, Melius Abundare e Quamdeficere, era stato appunto murato, vedete qui dei tuffi, del cemento, proprio per far sì che il vicolo fosse inaccessibile e poi la porta attraverso la quale si entrava. Nulla. Sulla città vecchia ci sarebbe tanto da dire, non servono gli interventi, come dire, a macchia di leopardo, gli interventi tampone, ma occorre un piano di ristrutturazione, proprio di programmazione su quello che sarà il futuro del Borgo Antico. In ogni caso, prima ancora delle grandi opere, però evitiamo che qualcuno possa rimetterci la vita. Grazie. 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 Grazie.